Una donna chiede ad un uomo dov'è la fermata dell'autobus. Dov'è la fermata dell'autobus? Mi scusi, sa se c'è una fermata dell'autobus qui vicino? Sì, vada dritto e al secondo semaforo giri a destra, poi giri a sinistra all'angolo di una libreria e vedrà una banca. La fermata dell'autobus è di fronte alla banca. Ho capito, grazie tante. Dov'è la fermata dell'autobus? Una donna chiede ad un uomo dov'è la fermata dell'autobus. Dov'è la fermata dell'autobus? Mi scusi, sa se c'è una fermata dell'autobus qui vicino? Sì, vada dritto e al secondo semaforo giri a destra, poi giri a sinistra all'angolo di una libreria e vedrà una banca. La fermata dell'autobus è di fronte alla banca. Ho capito, grazie tante. Grazie a tutti.